Grazie alle potenzialità di strumenti e tecnologie che rendono il nostro lavoro eseguibile in ogni momento e da qualsiasi luogo, negli ultimi mesi è andato consolidandosi un nuovo modello di produttività individuale, virtualizzato e sempre meno vincolato alla scrivania dell'ufficio. Manager, dipendenti, consulenti collaborano sempre più frequentemente da remoto, in team di lavoro organizzati anche se geograficamente distribuiti, adottando quelle che ormai sono divenute le nostre nuove abitudini di lavoro ibride. Nell'ultimo anno infatti lo studio condotto dall'Osservatorio Nazionale per l'innovazione digitale nelle PMI da parte del Politecnico di Milano ha registrato un aumento pari al 45% nell'utilizzo di strumenti digitali di collaboration, proprio per far fronte ai nuovi modelli di lavoro flessibile. Anche le piccole e medie imprese stanno quindi procedendo verso la virtualizzazione degli strumenti di lavoro, condizione fondamentale per potenziare la dimensione del lavoro in team, ma anche per permettere al lavoratore di essere sempre operativo ovunque sia. In qualità di System Integrator sperimentiamo e selezioniamo da anni modelli di collaborazione innovativi e digitalizzati, proprio per proporre ai nostri clienti strumenti capaci di rendere la collaborazione remota, fluida ed efficiente. Uno dei nostri obiettivi principali infatti è proprio quello di supportare nel modo migliore le esigenze di team di lavoro sempre più distribuiti. Il software di desktop remoto o Supremo va proprio in questa direzione, consentendo di accedere e controllare PC e server remoti in pochi clic, ovunque voi siate. senza la necessità di particolari configurazioni. Supremo utilizza infatti un protocollo di trasferimento dati che consente di connettersi a PC o server remoti senza installazione o configurazione di router e firewall. Con Supremo è possibile effettuare connessioni simultanee, schermi multipli, stampare da remoto, trasferire file in entrambi le direzioni ed eseguire con semplicità tutte le azioni che desideriamo, come se fossimo fisicamente di fronte al PC remoto. Grazie alla sicurezza della connessione criptografata, il cui accesso è regolato ad ogni avvio da password temporane, noi lo utilizziamo abitualmente per offrire assistenza remota rapida a tutti i nostri clienti. Disponibile per Windows, Mac, Linux, iOS e Android, con Supremo si può controllare più PC da un singolo dispositivo, oppure connettersi a un singolo PC da macchine diverse, senza la necessità di un intervento umano sulla macchina distante per avviare la sessione di controllo. Il tutto quindi per poter lavorare da remoto efficacemente e con velocità. Riepilogando, Supremo ci aiuta a trasformare il concetto stesso di ufficio, come scrivania fissa, in un digital workplace, mettendoci quindi in condizione di avere ovunque il nostro ufficio a portata di mano. Ancora una volta l'innovazione tecnologica ci supporta nelle ormai sempre più veloci evoluzioni nel nostro vivere professionale.